Bene ragazzi, prima del video, mi raccomando, non dimenticate di fare un salto nel primo link in descrizione Instant Gaming, dove troverete un sacco di videogiochi a prezzi scontatissimi, tra cui le ricariche Xbox e gli abbonamenti. Mi raccomando, primo link in descrizione, Instant Gaming! Ehi, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video, io sono Xyuder e ragazzi abbiamo da fare una sfida molto molto interessante in questa settimana, numero 9, quella di scoppiare i palloncini sparsi per la mappa. Beh ragazzi, allora non voglio dilungarmi ulteriormente, voi mi raccomando, mettete un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e non perdete i video che ho già caricato delle altre sfide. Andiamo subito ragazzi a vedere le location esatte dei palloncini da scoppiare. Palloncino numero 1, ragazzi, lo troviamo dietro Palmetto Paradisiaco, vi faccio vedere con esottezza dove sono, eccomi qua, sono nella fattoria. La dietro, una volta che ci siamo, lo scoppiamo, palloncino numero 1, fatto. Per il palloncino numero 2, ragazzi, invece dobbiamo andare vicino alla tartaruga di metallo, insomma, dietro rifugio ritirato, state vedendo benissimo dove sono. Dobbiamo raggiungere questo camion in bilico che a volte assopra anche un chest e come vedete, eccolo qui, palloncino numero 2, preso. Non dobbiamo spostarci molto per il palloncino numero 3, basta semplicemente raggiungere la torre che c'è proprio dietro al quartiere, lo state vedendo insieme a me. E come vedete, ragazzi, proprio qua, nell'angolino del tetto, lo possiamo vedere, il palloncino numero 3, lo scoppiamo, palloncino numero 3, preso. Andiamo avanti, ragazzi, e la posizione numero 4 del palloncino si trova, invece, dalla parte opposta del quartiere. Come vedete, ragazzi, il quartiere è lì, alla nostra destra. Noi dobbiamo raggiungere proprio il bordo della mappa e, per la precisione, questa roccia. Guardate un po', ragazzi, guardate che posizione, super nascosto. Come state vedendo, il palloncino è attaccato esattamente alla roccia, proprio dove c'è la cascata. Atterriamoci vicino, lo scoppiamo, palloncino numero 4, preso. Molto divertente la posizione numero 5 dei palloncini, siamo arrivati a metà strada. Dobbiamo, ragazzi, raggiungere, invece, il motel, quello che c'è alla sinistra, di passatempi pomposi. Forse lo state già vedendo? Eccolo lì, ragazzi, esattamente nel buco che la Meteora ha fatto nella scritta motel, c'è il palloncino numero 5. Ci atterriamo, anche se non riusciamo ad atterrarci, vabbè, lo scoppiamo. Numero 5, si va a Pinnacoli per il palloncino numero 6. Dobbiamo raggiungere l'edificio davanti a noi. Vedete, non questo qua grande alla nostra sinistra, ma in più che l'edificio, in realtà, questo veicolo, che come vedete è vicino all'albero. La posizione l'avete capita tutti, lo distruggiamo. Palloncino numero 6, preso. D'altra parte, invece, il palloncino numero 7. Siamo nel laghetto vicino a Lande Lettali. Insomma, Lande è lì. Noi dobbiamo spostarci proprio qui nel lago, al centro. Lo state già vedendo, ragazzi, sicuramente. Sopra la punta della barca, dove c'è anche il chest, spesso e volentieri, c'è il palloncino numero 7. Ci atterriamo, lo distruggiamo. Palloncino numero 7, preso. Ci spostiamo a Tempio, Tomato, per il palloncino numero 8. È vicino a dove c'è la caverna, con i chest nascosti. Lo state vedendo, ragazzi? Eccolo lì. La caverna è qua alla nostra destra, ma invece, qua dentro, c'è quello che stiamo cercando. Lo distruggiamo. Palloncino numero 8, preso. E siamo arrivati alla penultima posizione. Il numero 9 si trova, invece, un po' più imboscato. Dobbiamo andare, ragazzi, come vedete. Siamo proprio in fondo alla mappa, dove c'è la grotta nascosta in mezzo ai pini. Sapete sicuramente dove siamo. Là avanti c'è il castello di ghiaccio. Dobbiamo entrarci. E come vedete, ragazzi, ancora più imboscato, proprio dentro qua, il palloncino numero 9 è stato preso. Arriviamo quindi all'ultimo, la posizione numero 10, che si trova a rapide ghiacciate, quindi non molto lontano dal precedente. Vi ricordo intanto, raga, di non perdere gli altri video che ho caricato sulla Stella Segreta, sui luoghi dove ballare e tante altre cose relative alla settimana numero 9. Beh, ragazzi, eccolo proprio qua. Vicino alla pista di partenza degli aeroplani, sopra questo cartello c'è proprio il palloncino che ci manca, il numero 10. Lo distruggiamo e completiamo la sfida. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Mi raccomando, vi ricordo che oggi c'è una live abbastanza lunga per sbloccare insieme la skin segreta. Un bacio grande e noi ci vediamo presto. Ciao! Ciao!